Il primo nato d'Italia quest'anno è Andrea Celi, nato e residente a Pordenone. La Federazione Donne per la Pace nel Mondo, movimento internazionale che da più di 15 anni promuove la pace attraverso il ruolo della donna, celebra tale evento con la cerimonia Auguri di Pace al primo nato dell'anno 2012. L'iniziativa, cui aderisce anche la Federazione delle Famiglie per l'Unità e la Pace nel Mondo, ha ricevuto il patrocinio del Comune di Pordenone. Oggi, infatti, nella sala consigliare del municipio di Pordenone, il vice sindaco Renzo Mazzer, l'assessore comunale Flavio Moro e due rappresentanti delle federazioni promotrici hanno consegnato al piccolo Andrea e alla sua famiglia un simbolico omaggio con l'augurio di un lungo cammino di pace e prosperità. L'assessore comunale Renzo Mazzer. Beh, credo una splendida coincidenza. È nato in città il primo bambino del 2012 di tutta Italia e quindi oggi abbiamo avuto una piccola festa per lui, una piccola festa con la Federazione delle Donne per la Pace, la Federazione delle Famiglie per la Pace, proprio per testimoniare che abbiamo bisogno di questo messaggio di pace per i bambini che nascono, un messaggio che deve portarci lontano, deve renderci responsabili, che dobbiamo segnare il loro futuro attraverso il nostro presente. Questo messaggio lo abbiamo dato alla famiglia e lo abbiamo dato alla nostra comunità perché possa essere una coincidenza favorevole per tutti.